buongiorno buongiorno a tutti e ci siamo ci siamo la questione ciclica ogni tanto dobbiamo ritornare su questi argomenti come si dice che due palle per l'apertura delle casse e queste sono due palle che vengono utilizzate per l'apertura delle casse appunto va bene ne abbiamo già parlato di queste cose morale della favola cos'è successo lo sapete tutti qualcuno fa un video su una casa cinese e svizzera svizzero cinese fanno la raclette con dentro ogni voltino in primavera non si capisce bene cosa facciano comunque agi lo serve se ne parla uno ne parla bene l'altro ne parla male qualcuno dice che sono dei truffatori qualcun altro dice che non sta a guardare questa cosa ma secondo lui la qualità dell'orologio è accettabile nel rapporto qualità prezzo io direi su tutto questo discorso chi se ne frega fondamentalmente bene faccio un video su questa cosa in cui parlo era il video del caffè quello del caffè dell'orologio parlo di questa cosa è semplicemente dicendo facendolo un po più lunga è perché bisogna fare qualche minuto di video questo che vi sto dicendo in questo esatto momento anche qui vengo attaccato tu stai portando avanti la causa di agelo ser che sono dei truffatori ho fatto vedere dei loro prodotti ho fatto vedere del loro video poi uno si farà le sue idee però niente insomma io peroro peroro che con la mia r è una cosa difficilina dire peroro peroro tra l'altro per chi conosce la zona qui dell'interna milanese sa che questo è un percorso davvero a ro ma non è importante e la causa appunto di agelo ser che loro hanno detto delle cose false nel passato pertanto sono dei truffatori qui come dissi già nell'occasione precedente occhio perché se andiamo a vedere cosa si è detto e quali affermazioni si sono fatte e qual è il livello a cui uno diventa un truffatore insomma parliamone massimo rispetto nessuno pensi che io non ho massimo rispetto e considerazione per una cosa una casa importante ad oggi in termini di fatturate di produzione orologi la casa cioè i signori con la corona tanto per non fare nome rolex ecco rolex e le sue cose nel tempo non proprio precise le ha dette e questo non sminuisce minimamente ho fatto un video e non l'ho fatto soltanto io l'aveva fatto prima di me marco beltandi un video sul fatto che rolex ha sempre sostenuto di aver fatto il primo orologio impermeabile non è assolutamente vero vi ho poi anche fatto vedere chi l'ha fatto e la riedizione di questo orologio fatta ora dagli svizzeri di watch angels rolex ha sempre detto che è stato il primo orologio ad arrivare su k2 ancora la questione chiedo scusa sull'everest ancora la cosa non è chiarissima se la sono giocata loro e lo smith e anche qui direi chi se ne frega anche su questo l'orologio sull'everest c'è un video guardateli video ragazzi io cosa li faccio a fare va bene ce n'è rolex massimo rispetto e considerazione per tantissimo tempo non ha detto e non ha mai voluto dire chi sono i suoi azionisti chi possiede rolex no perché poi andiamo a fare giustamente massimo rispetto per chi le fa e complimenti a chi le fa andiamo a fare le ricerche per cercare di capire chi sono certe case non conosciute se non salta fuori se non riusciamo a scoprirlo giustamente ci inquietiamo ecco insomma ci sono dei casi altrettanto clamorosi e i dati di produzione di molte case svizzere non sono pubblici i dati di fatturato si fa fatica andare a capire come sono suddivisi c'è tutta questa trasparenza anche in grandissimi nomi non ci sono ma loro poi non danno l'assistenza a geloser non lo so ripeto non ho l'orologio loro e penso che non ne comprerò quindi concettualmente non me ne può fregare di meno però anche qui ci sono stati non pochi problemi con l'assistenza in case assai importanti e assai blasonate ok per cui insomma di che cosa stiamo parlando non si capisce non si capisce rimane il discorso io faccio un'affermazione per cui sono stato contestato gli orologi sono tutti belli e qualcuno ha detto e se uno dice che gli orologi sono tutti belli e perché ci capisce poco permesso che sicuramente è vero che io ci capisco poco signori forse bisogna capire un po di più per andare a valutare un orologio per andarne a capire le considerazioni a farne sopra appunto delle considerazioni non soltanto riferite alla storia ma tente volte anche alla storia da dove arrivano per andare ad apprezzare o meno un certo tipo di orologio sicuramente un orologiaio che apre un orologio ne fa una valutazione tecnica in grado di dire presumibilmente se non mi racconta delle minchiate a prescindere è in grado di dire guardate che questo orologio ha magari a dispetto del costo basso delle soluzioni tecniche o comunque delle delle particolarità apprezzabili e valide ecco forse serve più quello come come competenza o comunque come considerazione e conoscenza della storia orologiera che non dire questo mi piace perché me l'ha detto il mio papà questo mi piace perché me l'ha detto il mio spacciatore di orologi di fiducia e va bene però il mondo è bello è fantastico youtube è ancora più bello perché permette a tutti di parlare e la cosa ci riempie di gioia mi piacerebbe tanto se questa cosa però fosse non fosse anzi più la scusa la il presupposto perché diversi youtuber in qualche modo trovassero il modo di attaccarsi ecco questo è una cosa abbastanza antipatica si può avere una grande rivelazione si possono avere delle idee diverse pur rimanendo amici pur rimanendo in relazioni pur continuando a nutrire rispetto reciproco rispetto reciproco che io di fatto per tutti gli altri youtuber il solo fatto che si sbattano e si rompono le scatole senza interessi ma diciamo senza interessi per fare così per condividere una passione e una conoscenza è già oggetto di tanto di cappello tanto di cappello quindi appunto mi levo tanto di cappello evidentemente come sapete io non ho nessun interesse a spingere il discorso degli orologi cinesi che state di lavorare in svizzera addirittura quindi come vedete così dallo fondo il tempo vola utilizziamolo per delle cose più interessanti misuriamolo con gli orologi che più ci piacciono a tal proposito come avete visto e oggi ho questo discutibile pagani design che avevo preso confidando in una per così come sillogismo in una sua notevole rivalutazione in funzione del fatto che forse di questo simpatico turchese lilla azzurrino che ne so sono dal tonico come faccio a sapere queste cose ecco perché case una casa già citata assai blasonata con una si fatta operazione non fatta da loro è fatta dai suoi seguaci ha avuto una grande rivalutazione perché ha fatto un modello di un orologio di cui questo è l'evidente spiega e spiccato e smaccato omage che siccome un'altra casa aveva fatto la versione per tiffany di questo colore che aveva un grande valore perché l'aveva messo all'asta allora hanno fatto anche loro quella di questo colore e gli altri hanno detto ma ma se dello stesso colore allora può valere migliaia di euro in più boh non ci ho capito niente e questo è rimasto al suo prezzo e va bene è andata male però ecco mentre chi scrive o fa delle affermazioni magari non sempre preciso è un giustamente perché chi dice delle stupidaggini va censurato però è un truffatore queste grandi operazioni queste prese di valutazione incommensurabili e incomprensibili invece fanno parte della logica della normalità e della correttezza così come il discorso dei rivenditori i reseller eccetera eccetera va bene lasciamo stare affermazione di nuovo signori adoro rolex un giorno vi farò un video sui rolex su quanto mi piacciono ho già fatto un video sulla storia del daytona eccetera serve per ragionare insieme e nient'altro benissimo vi sarete già giustamente frantumati gli oggetti che servono per aprire le casse degli orologi questo lo capisco come la penso sugli omaggi inutile che oltre a quello che vi ho già detto sia qui a farla lunga vi metto poi alla fine il collegamento per andare a vedere un video di un po di tempo fa ahimè tristemente attuale sarebbe stato bello se l'avessimo superato tutti insieme su così la discesa negli inferi nel mondo degli omaggi non mi resta che salutarvi e dire che dirvi che dirvi iscrivetevi al canale comportatemi bene trovate un lavoro di giorno non fate arrabbiare i vicini di casa eccetera 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 un saluto a tutti